Come l'hanno magari spostata, l'hanno fatta all'iscianare. Certo. Vedi? Guarda. Tutto a bagnare, tutto a bagnare. Sono esasperati e disperati. Si ritrovano costretti non solo a piangere i propri cari defunti, ma anche ad affrontare, quasi come una beffa, una situazione di vera emergenza e degrado. È la sorte dei cittadini di Lamezia Terme, familiari che oggi denunciano una situazione non più sostenibile. Siamo nel cimitero di Nicastro, nell'Ametino. Qui, nella sala osservazione, come al solito, si affollano le bare in attesa di essere tumulate, perché di loculi liberi non ce n'è, nonostante l'annunciato progetto di ampliamento. Ma gli ultimi giorni di maltempo hanno acceso i riflettori su quello che è ormai un ulteriore schiaffo ai cittadini. La pioggia ha infatti raggiunto le bare, esponendole all'acqua e costringendo i familiari a correre ai ripari. Sono un mese e sei giorni che mio padre è chiuso in questa, diciamo, non stanza, che vi posso dire, non è uno stanzetone per tenere tutti questi defunti qua, magari. Il problema è che io da oggi mi sono sentito prendere in giro, perché vengo qua, da qua ti mandano alla multiservizia, dalla multiservizia ti mandano al comune. Che mi ha detto che nei primi pomeriggio, ti parlo quasi dieci giorni fa, nel primo pomeriggio mi chiamava. In questi dieci giorni né si è fatto sentire, né è venuto qua a vedere la nostra situazione. Io non è che aspetto che un giorno mi chiameranno, sai, senti, guarda, abbiamo trovato il posto per tuo padre. Io mi aspetto la prima telefonata, che crolle il tetto. L'evidente stato di degrado del cimitero Lametino ha però superato ogni limite. Strade interrotte, calcinacci, muri pericolanti, l'assenza di luce e di servizi. Tutto carente, nonostante le spese dei cittadini, ormai sul piede di guerra. E qui dentro ci piove, ci piove. Tant'avamo la lascio fuori, non dentro qua, ci piove dentro e ma scossiamo. Ce li dobbiamo portare a casa, Antonio? No, no, ormai stiamo arrivando a casa. Me la devo prendere mia sorella e me la porto a casa. Diversamente non si può fare, perché ci piove. Abbiamo messo i telli di plastica e non è giusto quello che sta facendo il sindaco. Non è una cosa giusta. Non siamo buoni solo a pagare le tasse, per questo siamo buoni. Però qui che abbiamo bisogno non siamo più. Il sindaco deve fare qualcosa. Ma è possibile che io non ci sia come la mesia terme? No, è inutile, è inutile. Qua sono tutti bravi. Al momento dei voti tutti fanno promesse. Ancora una volta è l'Associazione Quartiere Capizzagli a rivolgere alla politica lametina, dalla maggioranza alla minoranza, il proprio appello. Io li invito a venire qua tutta la giunta, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, a farsi un giro al cimitero. Perché non è giusto che questi poveri defunti non possano riposare in pace. Noi non ci siamo più, non ci sta l'associazione, non ci sta la città e ci aspettiamo delle risposte. La prima risposta è che si attivano almeno per la manutenzione del soffitto e nel frattempo espostano queste bar in altri depositi idoni, perché non sappiamo se sono a livello di sicurezza, si è riemparente qua e può crollare anche il soffitto, e anche a livello di igienico sanitario, perché stare in questi luoghi bagnato pure, non sappiamo se c'è queste condizioni qua.